La tecnica della scuola ha interrogato i propri lettori chiedendo loro se siano favorevoli o contrari al Green Pass per gli studenti dei 12 e 19 anni. Ecco cosa hanno risposto 3.017 partecipanti al sondaggio. La categoria dei docenti è quella maggiormente divisa con un 52,8% di favorevoli al certificato verde obbligatorio anche per gli over 12 e un 46,6% di contrari. Pur escorrendo i commenti sui social si intuisce come ci sia una parte di insegnanti che seppur vaccinata è spaventata dal fatto di entrare in una classe con alunni non immunizzati. Dall'altra parte però ci sono anche degli utenti protagonisti nella doppia veste di docenti e genitori e in questi ultimi casi viene fuori la maggiore indecisione nella scelta. Più nette sono risultate invece le percentuali per i genitori degli alunni. Risultano in tre casi su quattro contrari al Green Pass per i figli. I no sono il 75,3%, i sì solo il 24,2%. Tra gli studenti risultano ancora più nette le percentuali dei contrari alla certificazione legata al Covid. L'84,4% di loro si schiera contro il Green Pass da mostrare a scuola e ragionando sono anche dati che sorprendono visto che le vaccinazioni ai giovani stanno crescendo sensibilmente. Solo il 14,6% di questa fascia d'età dice di sì. Contrario al Green Pass è anche una buona fetta di dirigenti scolastici, quasi 8 su 10. Sempre del campione che ha fornito una risposta al quesito posto dalla tecnica della scuola si dice non d'accordo col certificato obbligatorio per gli studenti, 78,9% contro 20,8%. Un no ancora più evidente arriva infine da parte del personale ATA. Secondo l'86,9% di amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici che hanno aderito al nostro sondaggio ha sbagliato il governo ad imporre la certificazione verde per accedere sul luogo di lavoro. L'area geografica di maggior provenienza degli utenti che hanno partecipato al sondaggio sul Green Pass obbligatorio nella fascia d'età 12-19 anni è il nord Italia con il 40,9% seguita dal centro Italia con il 23,8% e dal sud Italia con il 20,7%. Infine il grado di scuola più coinvolto nel sondaggio è stato quello secondario di secondo grado con il 52,1% di partecipanti, poi la secondaria di primo grado con il 24,9% di adesioni. Grazie.